meravigliosa, stupenda, unica, Monica! Jukebox, è una magica invenzione Jukebox, pochi soldi in un canzone Guarda, guarda, guarda Che c'hai? Farricello! Che è? Che cos'è? Questo è il farricello Il farro spezzato E ti introduco il nuovo ospite Arcangelo Lui è uno chef di un ristorante stellato Però nella sua cucina entra anche il farricello Che è un prodotto della cucina povera Certo, è un prodotto che è stato riscoperto nel tempo E abbiamo da un po' di anni sulla nostra carta Che abbiamo fatto evolvere e reso con un occhio moderno Bravo, vediamo come si prepara Tu lo produci questo? Monica, perché farricello invece di farro? Allora, che differenza c'è fra il farro intero e il farro spezzato? Eh, bravo, infatti Perché la domanda mi è sorta spontanea Stavo chiedendo proprio questo a Giacomo Che il produttore ti è sorta spontanea Mi hai anticipato, collega Però Giacomo ci risponderà a questa domanda Perché si chiama farro spezzato? E che differenza c'è con il farro classico? Si chiama spezzato perché è uno spezzato di farro Sembrerebbe quasi un sottoprodotto Ma non lo è in realtà Anzi Perché in qualche modo è anche Principalmente il risultato dell'operazione di sfogliare Il faglio di sgusciarlo Chiaramente le operazioni di sfusciatura Venivano fatte una volta in maniera arcaica Abbiamo qualche... Se vanno a prendere Intanto io continuo a raccontare a Marcello Questa cosa molto interessante Perché il farro classico Quello che si fa qui in Abruzzo Che cottura, Arcangelo? Ma se il farro intero può arrivare anche ai 40 minuti Un cereale intero Quindi è una tempi di cottura molto importante Lungaggine in cucina che fastidio Che lungaggine Marcello Il farro che ora andiamo a spogliare Guardalo quanto è piccolino Noi lo andiamo a spogliare Anticamente si faceva a mano Oggi si fa in maniera un po' più comoda Vedi ci stanno qua i due semini I due parretti Allora che succedeva? Che nella produzione della sfogliatura Capitava che qualcuno si rompesse E nella cucina contadina non si buttava Ecco Marcello te li mostro Dopo aver spogliato il farro Sono loro quelli che vengono fuori Sono nudi E che in teoria Se i cucinati hanno una cottura di 40 minuti Invece anticamente Per non buttar via nulla Anche se si rompeva il farro E si spezzava Si è dato vita E aveva utilizzato il residuo spezzato Che ha un tempo di cottura Intorno ai 10 minuti 10 minuti? Questo è un discorso che è legato alla durezza del farro Cioè più è duro il farro E più è spezzabile Diciamo con frattura vitrea E non farina È molto complesso Però Arcangelo ci sta mostrando Come possiamo farlo anche a casa Marcello Siamo partiti con una tostatura a secco Quindi senza olio Senza grassi L'abbiamo tostato Abbiamo sfumato con del consome di porcini Ma può essere del brodo vegetale O quello che abbiamo a casa Sono arrivati ieri dalla Maiella Marcello guarda Sono arrivati ieri freschi freschi E andiamo a cuocere per indicativamente 13 minuti E ci dobbiamo fare attenzione Di aggiungere acqua Mano a mano Per portare il prodotto a cottura Ok vediamo com'è finito Il prodotto facciamo un change Ma è simile a riso alla cottura Il prodotto è finito dopo i diciamo È simile a riso Questa la facciamo noi Perché lo È simile al riso Esatto Il concetto è lo stesso E si può usare sia per fare Che so Una insalata fresca e stela Certo In questo caso è un riso È un farricello mantecato Come se fosse un risotto Come se fosse un risotto Un farricellotto Ti faccio vedere Mentre Arcangelo completa il piatto Marcello Io so che qua tu perderai un po' il sonno Io ti presento Peppino Tinari Che è un'istituzione italiana Ciao Marcello Ciao Peppino Che mi stai facendo assaggiare Guarda qua ora devi ingrassare qualche etto Non ti chiedo tanto Due etti Però Marcello i signori qui hanno detto Che dal vivo sono più magra Quindi posso mangiare Tu sei bella È diverso Che stiamo assaggiando Allora stai Ora stai assaggiando Questo qua che è il controfiletto di maiale Nero della nostra azienda agricola Sì Ho tagionato Che è il controfiletto di maiale Poi ho tagliato il salame steccato Facciamo vedere però il salame steccato Marcello Guarda la particolarità Vedi che ci sono dei solchi Uno, due, tre, quattro Questi solchi Così forse lo vedi meglio Sono le mie rughe di invidia Perché? Allora noi mettiamo Sì Le rughe di invidia di Marcello Però spiega la tecnica Noi mettiamo quattro assicelle di canna E poi leghiamo con un filo elastico In modo che man mano che il salame stagione si asciuga Che spettacolo Viene compresso naturalmente E poi abbiamo anche un salame di magia Misto di carne mista di maiale Marcello Mamma mia E se poi vuoi assaggiare anche la salsiccia di fegato Tu taglia, taglia, taglia la salsiccia di fegato Ma io intanto Marcello ti voglio far vedere Abbiamo lasciato un discorso a metà Questo monello, che ha una storia bellissima Il mio amico Nimo Lui è laureato in filosofia Ma ha portato avanti la tradizione della sua famiglia Del suo nonno, del suo bisnonno E ha una pasticceria dove producono solo le sise delle monache E queste sono quelle originali Quelle vere Facciamo vedere a Marcello Che spettacolo, che bello Ripiene di crema Dove sta la crema? Di crema È ricoperta ovviamente da una pioggia Di zucchero a velo Per sporcarlo Per sporcarlo, è vero Emo? È un panno di spagna Io non so se esiste il reato di stiegazione Ma tu da filosofo a pasticcere È una tradizione Tu sta attenta Monica Sta attenta Sta attenta Esiste il reato di stiegazione Dice Marcello Secondo me è un po' sì Con queste cose buone Emo E io la devo assaggiare Marcello Perché è di una delicatezza Scusami Ma tu da filosofo a pasticcere Come ti sei trovato? Ci siamo trovati perché Era una voglia che avevamo dentro Di portare avanti questa tradizione di famiglia Parla, parla Parla, parla Ad abbinare le due cose La filosofia e la dolcezza Ed eccoci Marcello E io con questa infinità dolcezza Ti mando un grande bacio da me Da questi amici fantastici Da sua maestà alla maiella E ti aspetto per la tavolata più tardi No Chiacchi Non vado a apparecchiare piuttosto Ciao Monica E anche oggi